Damiano, adesso come facciamo a girare lo sport? Hai preso freddo sciando e non hai più voce. Uso questa, bella idea. E sai adesso cosa vediamo? Certi di Mobile Amiga, sor bravo, che all'inizio dell'anno sono ancora più convenienti. Parete con due cestoni, porta tv e antivetro a soli 1390 euro. Camera con armadio, letto imbottito, comocon, specchiera e comodini a soli 1690 euro. Cucina completa di elettrodomestici a soli 1190 euro. Visto, e sai come si può pagare? 48 mesi a tasso zero, oppure 60 mesi. E la prima rata? Luglio 2010 e ancora regali, regali, regali! Tivoli per fusti, tv lcd con digitale terrestre incorporato e per gli sposi un bellissimo pacco corretto. Auguri! È vero, è iniziato il 2010, buon anno, buon anno! A tutti, e sì, a chi è già nostro cliente e a chi lo diventerà quest'anno! Felice anno a tutti, da Mobilia Megastore. Tutti i giorni a Caserta Sud.